Ingredienti Dosi per 4 persone 125 grammi di acqua 50 grammi di burro 75 grammi di farina 2 uova Brodo di carne Grana grattugiato e sale Preparazione Far bollire l'acqua con il burro e il sale Fuori dal fuoco unire la farina Rimettere sul fuoco e cuocere mescolando Continuare a cuocere e mescolare finché si formerà una palla che sfrigolerà Unire le uova e mettere la pasta in una tasca per dolci con bocchetta larga e liscia Spremere e formare dei cilindri Versarli nel brodo bollente e cuocere per 2 o 3 minuti Servire con il grana grattugiato Il piatto è pronto Buon appetito